Allora, Mirko, capitano del Pula, grande partita, un pareggio meritato, avete sbagliato tante occasioni? Sì, non è tutti i giorni che la capolista concede tutte queste occasioni, siamo stati, penso, bravi a creare un pochino meno bravi nelle palline attive, visto che ci hanno fatto gol e potevano farne un altro al primo tempo, però va bene così. Avete sbagliato anche voi tante occasioni, una prova di quantità ma anche di qualità, perché altrimenti non si arriva 5-6 volte davanti a dei riperi. Sì, sì, il nostro problema penso che sia ormai palese, cari di concentrazione, perché penso che possiamo giocarcela con tutti. Ti ripeto, se abbiamo questa testa, questo approccio tutte le domeniche, possiamo giocarcela con chiunque, se no è dura. Ecco, è un rammarico, una squadra così forte come la vostra, stare a centro classifica, potevate essere tranquillamente zona play-off? Beh, la società, se vogliono stare i programmi, è che sono a salvezza, sicuramente siamo i primi a volere qualcosina in più. La salvezza per il momento c'è, però chiaramente... Giocando così si può aspirare a qualcos'altro? Dobbiamo aspirare a qualcos'altro, perché sarebbe riduttivo fermarsi una salvezza semplice, anche perché abbiamo i mezzi secondo me, però ti ripeto, solo con questa testa. Va bene, grazie Milko, tanti auguri per il proseguo del campionato. Grazie.